Allora, sto registrando dal novantesimo e trentacinque, no? E io da tifoso della UE, è proprio il mio sogno vedere una squadra come l'Inter, perché nel primo tempo, quando c'era bisogno di passare in vantaggio, ha creato 4-5 opportunità, annichilendo il Bologna, completamente diverso da quello che avevamo visto di solito a Dallara. Poi nella ripresa è stato un dominio totale, vediamo le conclusioni, l'Inter ha proprio fatto un catenaccio, stile Allegri, no? Si è messa lì, però, palle e golla, di là di quella di Zik Zik Lamorosa, che lì ha veramente mancato di cattiveria agonistica, questo è il difetto, grandissime palle e golla non ne ha avuto il Bologna. Ha spinto, ha dimostrato lo straordinario lavoro di Tiago Motta, però vedere quest'Inter è veramente spettacolare, cioè spettacolare, perché riesce a tornare momenti di calcio importanti, come quel gol. Braccetto di sinistra, bastoni, invento un assist da trequartista per il braccetto di destra, Bissek, che va a inserirsi. Sono cose bellissime, con la capacità di soffrire, difendersi, non vado alle ciance, vado ai fronzoli, tutti dietro, catenaccione di vecchio stampo nero-rocco e portare a casa il risultato. Questo è il mix perfetto. Bologna, gran lavoro, non si può di niente a Tiago Motta, perché onestamente oggi ha fatto una ripresa all'assedio, l'ha messa in difficoltà, l'Inter le ha provate tutte, è riuscita anche a gestire i suoi top player. Lautaro non è entrato, Celanoglu un'ora, Turam un'ora, come sempre un grande alchimista, Simone Inzaghi, ne trovate le giuste situazioni. Ammirato da quest'Inter, perché per me, proprio da ex allenatore, è proprio l'emblema di come una squadra dovrebbe essere. Capace di avere idee, begli sprazzi, giocatori di qualità superiore e la capacità di soffrire, pensare a non prenderne e pensare di essere una squadra provinciale, tra virgolette. E' logico che l'Inter è molto di più, però assomiglia molto alla partita di Firenze, anche lì l'Inter non brillante, che in un modo in un altro di cortomuso porta a casa il risultato. Questo è quello che inorgoglisce i tifosi, quello che inorgoglisce un allenatore e quello che suscita ammirazione da parte di tutti quelli che amano questo sport. Poi il Bologna è una signora squadra, per carità del cielo, bisogna fargli solo i complimenti a Tago Motta, perché veramente è riuscito a creare qualcosa di importante. Chapeau all'Inter, che rischia di fare i 102 punti in classifica di Antonio Conte, perché questo Inter, vedo difficilmente che possa perdere punti, almeno di distrazioni dovute alla Champions. Ma se anche prima dell'Atletico si fa una partita del genere, è un altro livello calcistico.